Non si ferma l'attenzione da parte dei militari dell'arma volta al rispetto delle normative relative all'igiene e alla salute. Rientra in questo ambito infatti il controllo eseguito a Favara dai militari della tenenza Carabinieri in collaborazione con il NAS di Palermo. A farne le spese un ristoratore di Favara che nello scorso fine settimana ha dovuto chiudere i battenti del proprio locale. Troppe infatti le violazioni accertate dai militari dell'arma, prodotti ittici e caseari mal conservati, alimenti carenti della necessaria tracciabilità, persino un topo morto presente nelle cucine in bella vista. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri del NAS hanno consentito di sequestrare circa 550 chili tra carne, vino, olio, prodotti ittici e caseari tutti scaduti in cattivo stato di conservazione oppure dalla provenienza incerta. I Carabinieri hanno inoltre fatto intervenire il personale sanitario ispettivo dell'ASP di Agrigento che ha contestualmente emesso un provvedimento di sospensione dell'attività produttiva elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 10.000 euro. Quello operato a Favara lo scorso fine settimana è solo l'ultimo di una serie di controlli voluti dal Comando Provinciale di Agrigento su tutta la provincia a tutela della salute dei cittadini. Grazie Grazie Grazie